Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora è il quarto episodio in circa un mese, episodi che hanno assolutamente delle analogie, nel senso che il movente che viene dato da questi colpevoli, da chi commette questi reati, sono davvero agghiaccianti. E la volta di un ragazzo di 16 anni lo riporta il giorno che ha massacrato un imprenditore con una mazza da baseball. Quando gli è stato chiesto le ragioni che lo hanno portato a questo gesto, lui ha testualmente detto e virgolettato, lui o un altro era lo stesso. Davvero tutto questo ci lascia interdetti e come ho detto è il quarto episodio in un mese, perché cronologicamente andando a ritroso, l'episodio sempre di un giovanissimo, un diciassettenne in provincia di Mantua, a Biadana, se la memoria non mi inganna, che ha ucciso una donna di 42 anni perché così voleva assaporare il gusto di uccidere una persona. Era stato ancora prima un ragazzo della stessa età, sono tutti un po' lì come età, che insomma si sentiva soffocato all'interno della famiglia e voleva riacquisire la sua libertà e quindi ha pensato di sterminare completamente la famiglia. E il primo episodio nella serie, ma non il primo in generale, perché se andiamo indietro nel tempo ce ne sono tanti altri, di questo ivoriano che a caso ha scelto una vittima da massacrare e uccidere la ragazza di Terno d'Isola in provincia di Bergamo. Ora in questo caso, parlo al condizionale perché non ci sono ancora, non so se è fuori pericolo, insomma però leggo che sta meglio la persona aggredita, un sessantenne e quindi speriamo davvero che in questo caso non si sia arrivati all'omicidio. Resta il fatto davvero pazzesco, agghiacciante delle giustificazioni che danno questi adolescenti. E allora io credo che sia giusto iniziare a riflettere, sia giusto parlarne tutti i giorni di questi episodi, un po' come succede in un altro contesto le morti premature, no? Io personalmente in questo caso non tengo il conteggio, non vado a vedere tutti i giorni queste informazioni, c'è chi lo fa ed è bene che lo faccia perché anche in questo caso continuano a dirci ma insomma è sempre successo, fa parte un po' della realtà e anche questi episodi vengono assolutamente sottovalutati secondo me, non viene dato loro il giusto risalto, questa notizia se l'andate a vedere non è di prima pagina e quindi questo è grave perché manca l'attenzione, manca diciamo la voglia, perché secondo me si tratta anche di questo, di affrontare a questo punto seriamente il problema e andarne a ricercare le cause di come mai in questi adolescenti minorenni in buona parte il valore della vita è zero perché questa è la realtà e semplicemente non c'è consapevolezza dei gesti che compiono o se c'è la consapevolezza è proprio per quello che vi stavo dicendo che non viene dato il valore invece alla cosa più importante che noi abbiamo che il Signore ci ha dato o la natura ci ha data seconda se credete o non credete che è la vita. Ecco io ripeto faccio fatica a capire e vorrei sempre andare poi ad approfondire un attimino il contesto familiare che non può non non centrare. In questo caso c'è ancora poco su questo ragazzo però vi terrò aggiornato come ho fatto anche nelle altre situazioni se ci saranno delle informazioni per capire bene se è un ragazzo che viene da una famiglia con disagio lasciato solo oppure se è davvero il fatto che le comunicazioni che ricevono ormai attraverso il web sono di un certo tipo che fanno sì che per questi giovani il valore della vita viene meno. Con questa notizia vi lascio vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.